Scusarmi con tutti voi perché a causa di impegni istituzionali non posso partecipare a questa interessante iniziativa. L'economia verde rappresenta il nostro futuro sia da un punto di vista prettamente economico e finanziario che dal punto di vista sociale e umano. L'obiettivo è il miglioramento del benessere e dell'equità sociale, riducendo i rischi ambientali e le criticità ecologiche. Ed è proprio dall'economia verde che nasce un impulso nuovo all'occupazione, quello dei green jobs. Sul fronte energetico si tratta di professioni per la realizzazione di tecnologie che permettono di sfruttare le innovabili e di conseguenza per l'installazione e la manutenzione. Un altro settore che può offrire molte opportunità è quello della manutenzione e della rifiuta del territorio, prevenendo dalle conseguenze di eventi atmosferici violenti come quelli che si sono verificati negli ultimi anni, frane, alluvioni, lunghi periodi di siccità, ma anche dalla diffusione di inquinamento che rende necessaria sempre più spesso la bonifica dei terreni. Ma sono green jobs anche tutti quei lavori in agricoltura, nell'industria e nei servizi che contribuiscono a preservare e rivolificare la qualità dell'ambiente, anche se non associati direttamente alla sostenibilità. È il lavoro che contribuisce alla tutela dell'ambiente e alla rivoluzione delle pronte eologica, occupazione che migliora la qualità della vita e del mondo in cui viviamo. Una doppia opportunità di impegno su due temi, oggi di primo piano, quali quello dell'occupazione e quello dell'ambiente. È per questo che la Regione Toscana ha colto fin da subito l'occasione offerta dai bandi di cooperazione internazionale nel settore della Green Economy, nel quale da tempo siamo attivi. Il nostro progetto AgriJob è stato infatti finanziato con lo scopo di costruire un sistema euro-mediterraneo di incubazione delle competenze nel campo di lavori verdi e successivamente è stato selezionato dalla Commissione Europea come buona pratica. AgriJob è per tutti noi l'occasione di approfondire la materia e costruire così una base conoscitiva di alto livello che potrà essere input per la definizione di strategia di sviluppo futuro. Nel periodo 2008-2014, una su quattro imprese italiane dell'industria e dei servizi hanno investito in tecnologie clean, nel manufatturiero una su tre. Queste aziende sono più dinamiche sui mercati esteri, innovano di più, assorbiranno fra il 40 e il 60% delle assunzioni e rilevano un aumento del fatturato superiore agli altri. È evidente quindi che la green economy rappresenta un eccellente strumento per migliorare i processi produttivi, per realizzare prodotti migliori, più apprezzati e responsabili e per la crescita e lo sviluppo dell'economia in armonia con l'ambiente e con un territorio, il nostro, di bellezza unica e universalmente riconosciuta che necessita di quella particolare attenzione che da segoli gli italiani e i toscani in special modo gli hanno dimostrato. ringraziamo naturalmente il Presidente della Regione Toscana per il suo contributo e colliamo l'occasione della presenza del Sottosegretario Silvio Avello per affrontare subito le questioni che hanno a che vedere appunto con l'ambiente. Sì, grazie, grazie alla CGL non solo per l'invito ma soprattutto per aver organizzato questa occasione di discussione. e' specifications di Barbara qui che ha richiesto ilatto vostro Grazie.